Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial dove vi spiegherò come scaricare video da youtube. Il programma è un programma abbastanza buono che si chiama Sombri. Eccolo. Allora praticamente se vogliamo scaricare musiche andiamo su youtube e scegliamo una musica per esempio balada facciamola prima e copiamo il link e lo incolliamo sul file scarica da YouTube. Incolla. Se vogliamo scaricare anche il video schiacciamo video mp e g oppure solo audio o file audio. Nel mio caso file audio. Ok. E attendiamo che decidiamo dove salvare il file. Io nel desktop. E attendiamo che si scarichi. Intanto mentre si scarica vi voglio dire di registrarvi nel mio canale dove si parlerà di gameplay di giochi per Xbox o PS3. Vediamo la descrizione nella descrizione di questo video. Intanto aspettiamo. Nel frattempo vorrei ringraziare il mio amico De Vincenzo Studios che mi ha creato questo sfondo per il mio canale. e vediamo che punto è. Aspettiamo. Ci metterà su 5-6 minuti per scaricare una canzone. I video invece è molto di meno. Allora. Ah sì. Intanto che aspettiamo vi voglio mostrare la mia intro. La mia intro. La troverete anche in questo video. L'avete già vista anche in questo video. Intanto ho finito. No. Manca poco. Ultimi secondi. E' completato. La canzone la troveremo dove l'avete salvata nel mio caso nel desktop che funziona perfettamente. Per i video è lo stesso procedimento. Da Game Tutorial è tutto. Al prossimo tutorial. Ciao. Ciao.